Il Serino pensa in grande, la società di Patron Trotta lavora a ritmi serrati, i biancazzurri sono i più attivi sul mercato nel girone C, in attesa del possibile ripescaggio in eccellenza la panchina è stata affidata ad Agostino Spiga, agli acquisti di Tornatore, Ex Solofra, Bergamino con un passata alla Virtus Savellino e Verrilli Punta del Miscano si aggiungono le importanti riconferme di Manco che vestirà anche i galloni di Capitano e Navarra. Il terzino è un fedelissimo del direttore sportivo Generoso Guarino e giocherà a Serino per il quart'anno consecutivo. Sempre Narciso, Manco, fa fuori l'avversario, in aria Manco, il diagonale, Serino 2 Virtus Savellino 0 Ma non finisce qui, infatti il presidente Trotta ha trovato l'intesa con il centrocampista Giuseppe Sorrentino lo scorso anno, diviso tra Cadia e San Tommaso. Il calciatore vanta anche un passato importante infatti ha giocato con la Primavera del Napoli e con il Cadice in Serie B spagnola. Con lui arriva il centrale difensivo Giuseppe Tomacelli, 12 presenze in Lega Pro con la Nocerina per lui anche trascorsi con Siracusa, Boiano, Sapri e Paganese in Serie D. Alla società serinese piace anche l'attaccante Volzone con un passato a Grotta e Battipaiese. Il lancio di Conza, allora Catarrozzo lo può scambiare con Botta, poi la valle per Volzone poi vantaggio e Scidelli e c'è il pallonetto di Volzone e subito il Grotta ritrova il vantaggio.